Con l'arrivo di Antonio Conte sappiamo benissimo ragazzi che i moduli più affini diciamo al suo stile di gioco alla sua idea di gioco sono quelli con la difesa a tre e sono quelli che lo hanno portato anche a vincere in Italia come sapete è un reparto molto importante e servono abbastanza difensori per renderlo il più preciso e forte possibile è arrivato già Godin, si è parlato di un altro nome, andiamo a vedere insieme chi è Ciao a tutti ragazzi sono Dav e vi do il mio muto in questo nuovo video come stavo dicendo uno dei nomi caldi di questi ultimi giorni anzi di pochissime ore è quello di Gary Kyle non stiamo parlando di un fenomeno ma semplicemente di un giocatore che andrebbe a svolgere un ruolo di turnover diciamo ai tre titolari che senza ombra di dubbio eventuali problematiche di concorrenza non dovrebbero esserci perché Godin, Skriniar e De Vrij al 99,9% saranno i titolari della difesa dell'Inter e Gary Kyle sarebbe un po' il giocatore che insieme a Ranocchia andrebbe un po' a fare appunto questo lavoro di turnover nel momento in cui dovesse servire un altro difensore perché? Perché Miranda come sapete è in partenza il giocatore ha 34 anni e ha deciso così un po' di tornare in patria sembra essere diciamo la destinazione preferita da lui e cioè tornare in Brasile e serve naturalmente anche per questo il di numeri perché come sapete in una difesa a tre ci vogliono perlomeno sei difensori centrali in squadra che sostituiscano appunto i tre titolari al momento ne avremmo cinque i tre titolari che vi ho detto più Ranocchia e Kyle diciamo che poi ci sarebbero delle alternative potremmo tenere bastoni ma probabilmente verrà inserito in qualche contropartita o l'altra alternativa potrebbe essere anche quella di D'Ambrosio che qualche volta il centrale l'ha fatto e potrebbe essere impiegato anche lì però tornando a Gary Kyle che ne penso? Secondo me è un buon giocatore per il ruolo che deve ricoprire va benissimo ha un anno in meno di Miranda quindi 33 anni quest'anno devo essere sincero non ha giocato moltissimo proprio perché i titolari erano altri al Chelsea però comunque si è sempre visto pronto comunque al Chelsea quando giocava al titolare ha sempre disputato delle discrete stagioni 8 presenze per Gary Kyle contro le 20 di Miranda avremmo fatte parecchi Miranda quindi vedremo se sarà veramente lui il giocatore che lo andrà a sostituire il suo contratto è in scadenza ragazzi quindi sarebbe un altro colpo alla Godin praticamente pagandolo zero sulle cifre del contratto poi c'è da ragionare ma penso che prenda uno stipendio non bassissimo ma secondo me siamo forse intorno ai 2 milioni non vorrei dire cifre a Katsum però più o meno siamo su questi valori qua che dire secondo voi può essere un buon giocatore naturalmente parliamo di sostituti e non di titolari e soprattutto se pensate a qualche altra alternativa se può aver senso magari anziché andare a prendere questi profili qua tenere i propri giocatori il primo che mi viene in mente è Bastoni che arriva da una bella stagione non ha sicuramente l'esperienza di Kail che è anche in termini di esperienza europea e internazionale sicuramente un buon profilo però fatemi sapere la vostra mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace commentate qua sotto facendomi sapere la vostra ci vediamo con un prossimo video mi raccomando riempite di mi piace questo e seguitemi anche sul mio profilo Instagram che trovate in descrizione da V193 io vi saluto bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi